Hey banca, sono qui per pagare la mia prima rata del mutuo. Bene, il tuo pagamento mensile sarà di 1000€. In realtà penso che pagherò 500€ a settimana. Oh, non farti problemi. Senti, pagami mensilmente e siamo pari. No, davvero, insisto, per 500€ ogni due settimane. Ma è lo stesso di 1000€ al mese. Non esattamente, facendo i pagamenti bisettimanali avrò finito con questo mutuo in 24 anni invece che 30 e risparmerò quasi 20.000€ di interessi inutili. Cosa? No, no, no. Oh sì, 52 settimane in un anno. Ti faccio 26 pagamenti, il che significa che ti pago 13.000€ all'anno. Se facessi pagamenti mensili pagherei 1000€ in 12 mesi, il che significa che ti pago 12.000€ all'anno. Effettuando un pagamento mensile extra risparmerò quasi 20.000€ e avrò finito con questo sei anni prima. Ci sarebbe cascata anche lei se non fosse stato per i consigli finanziari di Diana che ti sta aiutando a risparmiare un sacco di soldi.